Bisogna andare molto a ritroso nel tempo per trovare la nascita dell'arma dei carabinieri, la cui costituzione risale al 13 luglio del 1814, quando le regge patenti ne attribuirono la duplice funzione di difesa dello Stato e la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica. Nel corso di tutti questi anni l'arma è cresciuta ai frenetici ritmi della società, diventando via via un punto sempre più fermo a sancire quella tutela alla legalità, che ne è uno tra i cardini fondamentali. Per noi cittadini in borghese, chi riempie la divisa è sempre stato considerato un essere speciale, capace di sfidiare anche le fonti più recondite del male e nello stesso tempo di essere un amico fidato al quale poter affidare la propria vita, fragilità e disperazione. È il caso in ordine di tempo, ad esempio, del vicebrigadiere del comando provinciale di Alessandria, Salvatore Germanà, che solo la settimana scorsa ha strappato dalla morte una giovane che minacciava di lanciarsi dal Ponte Meier. Quella divisa nera, con le bande rosse ai lati dei calzoni, rappresenta anche questo. Sono molteplici le divisioni nelle quali opera l'arma, oltre a difesa, polizia di sicurezza, giudiziaria e protezione civili, in qualità di forze armate, assicura tra le altre anche la difesa della patria, la partecipazione alle missioni di mantenimento e ripristino della pace, controllo del territorio e servizi di ordine pubblico. Ma non solo, perché essere carabiniere vuole anche dire disciplina e senso di appartenenza, vuol dire credere e misurarsi sempre e comunque per il bene comune. In questi giorni è stato divulgato il nuovo spot realizzato dall'ufficio cerimoniale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il 143esimo corso formativo annuale per allievi carabinieri, le cui istruzioni si possono trovare sui siti internet www.impa.gov.it e www.carabinieri.it. Un modo per mettersi in gioco e per non perdersi in questa società, dove i valori sono pressoché tristemente associati ai social network, ai gerghi bella fra e raga o rega che dir si voglia, dove il servizio militare che tanto faceva bene a tanti ragazzi è stato depennato e per capire che stare al mondo vuol dire anche prendersi cura dell'altro e non parliamo del bro di turno, ma della collettività dove la giustizia e il senso del dovere rendono grande una nazione.